so che ce n'è di migliori è strecato dorme bravo cosa ho detto io? io sono stupido no parlo lento e male cosa ho detto io? non lo so perché non mi senti tu? oh no questa cosa sta andando avanti da un po' di giorni non lo so vogliamo aumentare molto molto e non toccarlo più? ok ora è molto molto alto non lo tocchiamo più? no no sei altissimo ti sento bene bene siamo dei tonti perché basta trovare i relitti no comunque io ti ammazzo a te ma sei proprio stupido ma com'è possibile che non senti le persone? cioè tu una persona devi sentire per favore basta oh capita di nuovo cosa succede? malissimo guarda e tu lo sai che capita pure certe volte io faccio finta di niente ah eh perdonami ti ammazzo eh ai lion devi tenere le forze per trovare la cassa eh ma dillo a lui sgridalo beh non puoi fare così perché lui ha bisogno di essere concentrato eh di essere ascoltato anche avete tutti i ragioni non è possibile guarda ti pesto col manico ti pesto guarda non mi far dire dove ha finito il manico e poi lo apriamo ma per me solo io sono da sola scusate cosa hai trovato? un cavolo di niente e allora che cazzo chiami? e allora che cazzo chiami? Grazie a tutti.